Dottor Parolini, quali sono le best practices in ambito IVA che caratterizzano il vostro studio? Allora, lo studio sicuramente, anche seguendo un po' la traccia fatta dal socio fondatore, si connota per avere una forte caratterizzazione internazionale e comunitaria nell'affrontare per le problematiche IVA, quindi diciamo che sicuramente l'aggiornamento sullo status della normativa e della sua interpretazione a livello comunitario è uno dei punti forti che noi utilizziamo nell'affrontare le tematiche che ci vengono sottoposte. Grazie.